Aspetto che... Perdonatemi Grazie Sì, salve, Massimo Guglini, Sky Sport Salve C'è stata la reazione dal punto di vista non solo del... rispetto all'ultima partita di campionato non solo dal punto di vista del gioco ma anche della personalità, della voglia, del carattere e questo credo che sia un buon punto di ripartenza al netto poi del risultato Sì, probabilmente è così è ovvio che diventa un vero punto di partenza se riusciamo poi a concretizzarlo dal punto di vista dei punti in classifica nelle prossime partite che ci aspettano Continuate a aver difficoltà a segnare non tanto a creare le occasioni poi da concretizzare come se la spiega questa difficoltà? È una cosa che ci accompagna fin dall'estate, fin dall'anno scorso insomma non è una novità di oggi però l'ho detto e ripetuto in settimana anche nell'analizzare la partita con la Fiorentina noi dobbiamo crearci un abito un abito di battaglia un abito di compattezza un abito di grandi sicurezze nostre per affrontare 38 partite e gradualmente non sarà sempre così L'impressione è però che questa sia una squadra che merita più dal punto di vista qualitativo dei punti che ha in classifica da cosa dovete ripartire? Al netto poi degli infortuni delle assenze che in questo periodo in questo periodo di stagione vi hanno nettamente e decisamente penalizzato Io penso che si debba ripartire dall'atteggiamento avuto oggi questo è l'atteggiamento che bisogna avere poi puoi vincere le partite puoi perderle capita spesso di perdere le partite con queste grandi squadre Napoli non è a caso prima in classifica però di sicuro il partire è da questo atteggiamento io sono convinto lo so anch'io che meritavamo più punti in classifica di quelli che abbiamo ma tant'è la realtà è questa e anche guardarsi indietro non cambia le cose prendiamo atto di questa realtà e prendiamoci in mano il nostro futuro Salve mister ieri ha parlato ovviamente di una settimana brutta che avete vissuto alla luce di ciò è da mettere in secondo piano magari il rammarico per aver visto in quelle azioni finali ancora delle gambe magari che tremavano laddove penso all'azione di Dorgu c'era una palla quasi solo da appoggiare in porta ha cercato il passaggio quindi ora conta soprattutto l'atteggiamento e con il Verona però si tornerà a un registro in cui appunto concretizzare innanzitutto e poi pensare al resto come si fa a dire concretizzare innanzitutto e poi pensiamo al resto è il resto che ci porta eventualmente a concretizzare e il resto è importantissimo come rispetto psicologico sì insomma essere una squadra in campo essere una squadra in campo in undici sempre in tutte le fasi offensiva difensiva nelle varie transizioni nel leggere insieme le situazioni come abbiamo cercato e come siamo riusciti a fare oggi perché non c'è solo una grande compattezza di fase difensiva fisica della squadra all'interno del campo per i tanti minuti che hanno separato l'inizio della partita dal vantaggio del Napoli c'è stata una compattezza di intenti che si vede che si percepisce e poi anche nel momento in cui vai in svantaggio tutti insieme vai comunque a provare ad andare a riprenderla una cosa che c'era mancata a Udine in una situazione in una situazione analoga insomma comunque vuol dire A avere un gruppo di un certo tipo B anche riuscire a far tesoro degli errori che sono stati commessi Buonasera Messer Antonello Giannetti di InfoNapoli24 io le volevo chiedere di Dorgu invece di questo ragazzo che ogni partita che vedo non ne ho viste tutte ma tante mi sorprende sempre di più lo ritiene già pronto eventualmente per un balzo in un club di un profilo ancora più alto del vostro grazie Ma quelli che chiamo sovente i presupposti del ragazzo sono decisamente quelli oggi compie gli anni oggi compie vent'anni una bella età una bella età insomma teoricamente sulla carta la proiezione che ha nel compiere i suoi vent'anni è che in questa annata sportiva gli si propone un impegno di 40 45 contando le partite quella nazionale A danese e serie A di un livello di un certo tipo che lui non ha mai affrontato nella sua vita quindi questo step di sicuro uno step che lo deve aiutare a a calibrare sempre meglio quegli aspetti mentali che sono quelli che ti fanno ricostituire l'atteggiamento l'impegno l'energia con cui affronti ogni singola gara perché è facile avere un grande un grande momento positivo però poi non è seguito e invece lui deve trovare una sua stabilità nell'alto livello e allora a quel punto sarà pronto per fare lo step che diceva lei seconda la sua dislocazione in campo e quello che lui fa sono piuttosto leggibili è il come lo fa che dà grande qualità perché lui è molto bravo da punto di vista tecnico ha ottimi tempi di gioco e di inserimento in area di rigore ha un ottimo gioco aereo e quindi non è sempre facile contrastarlo quella palla lì è il minimo sindacale concesso già nel primo sul finire del primo tempo mentre eravamo stati bravissimi per gran parte del primo tempo già sul finire lui ci aveva preso il tempo in un paio di ingressi senza palla che abbiamo letto con un attimo di ritardo insomma nello spogliatoio abbiamo discusso questa cosa poi eravamo riusciti in qualche modo a gestirla e alla fine è arrivato è arrivato questo gol Sì mister oggi abbiamo rivisto dall'inizio Banda come giudica il suo apporto lei spesso dice che non ha ancora per la prima volta vede il Banda nel miglior stato di forma e se è possibile una continuità di impiego del ragazzo Beh a me è piaciuto molto a me è piaciuto molto perché ha svolto sia i compiti difensivi che gli erano stati assegnati con grande continuità e quindi non a sbalzi ma con grande continuità e sia è riuscito ad essere bravo a farsi trovare tutte le volte che noi conquistavamo la palla per creare problemi al Napoli probabilmente la sua autonomia oggi era di una decina di minuti inferiore a quelli che gli ho dato io e tant'è che insomma nel finale nel suo finale di partita è calato un po' però per noi è un ottimo segnale di l'avere di nuovo banda in buone condizioni insieme a noi buonasera grazie a tutti grazie a tutti